Nell'antico borgo di Galtellì, B&B Rifugio di Galte, immerso nella tranquillità del centro storico, offre ampie stanze nelle quali riposare e pernottare anche per diversi periodi. Le camere sono dotate di tutti i comfort. La cucina è a disposizione degli ospiti. B&B Rifugio di Galte, il luogo ideale per un soggiorno nel cuore della baronia. Grazie a tutti.